Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Queste erano le parole che pronunciò Neil Armstrong dopo aver lasciato l'impronta del suo stivale per la prima volta sul suolo lunare. A distanza di più di 50 anni però l'uomo non è sazio. Quella perenne ricerca dell'ignoto, dello spingersi oltre, ha portato la NASA a lanciare su Marte, non con poche difficoltà, il rover Perseverance. Il segnale dell'atterraggio sul pianeta rosso è arrivato a distanza di 11 minuti dall'evento a causa di un ritardo nella comunicazione. Ma ieri, intorno alle 21.55 ore italiana, si è scritta un'altra pagina di storia. Touchdown confirmed, esclama Swati Mohan dalla sede JPL della NASA a Pasadena, California. Dopo l'esternazione tremendamente americana legata allo sport nazionale e il football, si è elevato un lungo applauso dal centro di controllo. Grande emozione da parte degli ingegneri che hanno visto, attraverso i loro schirmi, il rover Perseverance atterrare nel cratere Jazeera, uno dei luoghi più suggestivi per una missione che va in cerca di tracce di vita, perché è il bacino di un antichissimo lago. Questo significa che nei sedimenti potrebbero ancora conservarsi tracce di forme di vita passata. A cercarla sarà anche un piccolo gruppo di ricerca italiano dell'Osservatorio dell'Istituto Nazionale dell'Astrofisica. Per due anni il rover setaccerà il suolo per raccogliere i primi campioni destinati ad essere portati sulla Terra. I campioni raccolti da Perseverance saranno inseriti in contenitori e depositati in luoghi precisi. Il recupero è affidato alla missione prevista nel 2026 e nel 2031. Il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Sacoccia, riferendosi al ruolo importante che la ricerca e l'industria italiana rivolgeranno nella staffetta di missioni che dal 2026 si susseguiranno fino al 2031 per portare sulla Terra i campioni del suolo marziano raccolti da Perseverance, ha affermato. Cominci una missione complessa e ricca di obiettivi importanti anche per portare l'uomo su Marte.